Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. I fan di Stranger Things aspettano la quarta stagione di questa amatissima serie tv con più impazienza rispetto a tutte le altre stagioni. Vuoi che sono arrivate pochissime notizie e che questa è l'attesa più lunga di sempre da una stagione all'altra di Stranger Things, complice anche alla pandemia che ha ritardato tutte le uscite cinematografiche, oppure perché prima della terza stagione erano sicuramente molte meno persone a conoscere questa grandiosa serie tv, oppure per i tantissimi misteri che circondano dopo la terza stagione questa serie e nessuna informazione grossa a parte. Chiaramente il fatto che Hopper è ancora vivo non c'è stata mostrata. Avendo quindi tutti questi misteri e i fratelli Duffer che non ci vogliono dire niente, è logico porsi delle domande, come ad esempio, che fini hanno fatto i poteri di Undici? Torneranno in qualche modo? Sono persi per sempre? O c'è dell'altro ancora? Tenetevi pronti perché a questa domanda risponderemo in questo video. Vi dico già che questo è un video di due, nel senso che uscirà un altro video con una teoria parallela a questa, ma che vi spiegherò alla fine di questo video. Come tutti ricorderete, Undici ha perso i suoi poteri in seguito a un incontro particolarmente ravvicinato con il gigantesco mostro controllato da Mindflayer, che le ha morso la gamba. Anche se la ragazza ha prontamente rimosso il pezzo di mostro, ovvero la massa morfa che era entrata all'interno della sua gamba in seguito dello scontro, le sue capacità sovranaturali hanno iniziato a indebolirsi sempre di più fino alla fine della stagione a scomparire. In seguito poi nella penultima scena della terza stagione vediamo Undici, tre mesi più tardi, che prova a testare i suoi poteri ma non li ha ancora riacquisiti, quindi ha avuto un lungo periodo senza poteri. E allora qui c'è chi si è schierato da una parte, ovvero da chi dice finalmente Undici non ha più i suoi poteri, è una ragazza e finalmente sarà una ragazza come le altre, normale, ciò che non è mai stato, non è mai riuscito a stare, non chiaramente per causa sua. Dall'altra parte c'è chi dice ma Undici se non ha i poteri è inutile, hanno sempre fatto tutto il affidamento su di lei per combattere i mostri. Quindi da che parte stiamo? Undici e soprattutto il suo vero scopo è quello di essere una ragazza oppure Undici è la ragazza che salva tutti? Da quale parte vi schierate voi? Undici è indispensabile con i suoi poteri o Undici è meglio senza i suoi poteri? Perché c'è chi ne pensa in un modo e chi pensa nell'altro. E la teoria di oggi vede un po' tutte e due le parti, ovvero che una ha bisogno dell'altra per esistere. Gli enigmi che Stranger Things ci ha sottoposto sono tantissimi. Innanzitutto i dettagli che ci sono stati specificati sul sottosopra sono davvero pochi. Non sappiamo se Undici è l'unica a sapere controllare questo mondo e se così fosse chiaramente i poteri sono fondamentali. È quindi logico chiederci quanti altri laboratori oltre il National Laboratory di Hawkins esistono? Sappiamo che almeno ne esistono altri due. Uno sempre ad Hawkins, quello che era sotto lo Stercor Mall utilizzato dai russi, e un altro in Kamchatka, in Russia, dove esiste un portale o almeno esiste un demogorgone in una prigione, quindi è logico pensare che in Russia sono stati fatti esperimenti e ne deve esistere uno ovviamente anche lì. Sin dalla prima stagione abbiamo ricollegato il fatto dei poteri, il fatto del sottosopra, a una sola persona, al dottor Brenner, lo scienziato che ha dato i poteri a Undici e ha scoperto in America il sottosopra. Oggi però non parleremo del dottor Brenner e lo faremo in un altro video, perché nel video di oggi, come si è capito, parleremo di come Mike potrebbe indirettamente ridare i poteri a Undici. In un altro video vedremo invece come il dottor Brenner può farlo, quindi abbiamo due scelte, e poi magari nessuna delle due è giusta, però è buono analizzarle entrambe. Ricollegandoci però a quello che abbiamo detto poco fa, un altro mistero sono di fatto i poteri di Undici. Il fatto che siano completamente scomparsi ci fa crescere di più il nostro livello di curiosità e farci chiedere ma com'è possibile, qual è successo, perché? Come detto, Undici è l'unica ragazza su cui tutti fanno affidamento per combattere i mostri, è infatti l'unica che abbiamo visto finora a riuscire a tenere testa a questi esseri mostruosi, e inoltre è anche l'unica che riesce ad ucciderli in modo definitivo. Infatti spesso ad esempio Steve, Jonathan, Nancy hanno in qualche modo combattuto in passato, tipo nella prima stagione, i mostri o anche nella seconda, ma erano tutti in modo temporaneo, con delle trappole per farli fuggire, eccetera, ma a sconfiggerli c'è riuscita solamente Undici, possiamo dire, in modo proprio che arriva pom pom pom, fatto, cioè, gli altri non sono in grado di farlo. Quindi se Undici non avesse più i poteri, ci sarebbero dei grossi problemi per tutta la banda, per tutta Hawkins, per tutto il mondo, possiamo dire. Ma questa situazione, quella della fine della terza stagione, rimarrà ancora per tanto tempo, per tutta la quarta stagione? Telecinesi, percezione oltrasensoriale, lettura delle memorie, sono solo alcuni dei poteri di cui è barra era dotata Undici, la nostra protagonista, praticamente, di Stranger Things. Le sue emozioni, però, come abbiamo visto più volte nel corso delle tre stagioni, influenzano, e non poco, in modo gigantesco, i poteri di Undici. Li accentuano, oppure li fanno calare da un momento all'altro. Rabbia e paura, soprattutto, sono le emozioni che più di tutte fanno accrescere la sua forza, e lo fanno in maniera esponenziale. Sua sorella, Kali, incontrata nella seconda stagione, le ha infatti insegnato come sfruttare al meglio la sua rabbia per controllare nel miglior modo possibile i suoi poteri. Basandosi su questo, ovvero le sue emozioni, la rabbia e la paura collegate ai suoi poteri, molti fan, molti spettatori, hanno iniziato a ipotizzare che proprio questi saranno la chiave per riconquistare i poteri da parte di Undici. Nella terza stagione, Undici e Mike erano di fatto una coppia felicissima. Finalmente si potevano sentire liberi, anche se questa loro libertà è durata pochissimo, e in queste occasioni, nella terza stagione, i poteri di Undici erano forti più che mai. Tuttavia, nell'ultimo episodio, l'abbiamo vista trasferirsi lontana da Hawkins, lontana da Mike e dai suoi amici, assieme alla famiglia Byers. La teoria, quindi, di molti fan è che l'amore, l'amore, chiaramente, verso Mike, può essere un potentissimo catalizzatore, la più prepotente tra tutte le emozioni, che sarà sicuramente un fulcro importantissimo per lo sviluppo e soprattutto la crescita esponenziale dei poteri di Undici. Essere allontanata da Mike potrebbe quindi essere la miccia innescante per riavere indietro i suoi poteri. Undici, infatti, aveva il potere di poter vedere, ad esempio, cosa le persone stessero facendo e sicuramente presa dalla gelosia, vorrà vedere, come aveva fatto tra l'altro, nelle passate stagioni, cosa Mike stesse facendo lontana da lei e non avere i poteri per lei sarà estremamente limitante e vorrà riacquistarli. Inoltre, riconegandoci al fatto che le emozioni hanno un effetto devastante sui suoi poteri, essere in una situazione di rabbia, forse anche paura, tristezza, amore, tutto mescolato assieme, metti tutto nella pentola, mischia e mischia, e viene fuori un'esplosione, un tripudio di emozioni, che nel caso di Undici potrebbero essere un evento innescante per riavere indietro i suoi poteri e, anzi, svilupparli ancora più forti. Dobbiamo inoltre tenere conto che Undici non è stata allontanata solamente da Mike, da Mike, dagli amici, anche dagli amici, ad esempio, come detto, Max, Lucas, Dustin, che erano solo amici, ma soprattutto da Hopper. Alla fine della terza stagione Undici ha perso Hopper, l'unica figura paterna che lei nella sua vita abbia mai avuto, o almeno l'unica figura paterna positiva, una persona che l'amasse, che la trattasse come una vera e propria figlia. Il capo della polizia di Hawkins è sempre stato uno dei personaggi più affezionati a Undici, l'ha amata come una figlia e ha fatto di tutto per lei. Undi, ovviamente, ha sofferto tantissimo per la morte di Hopper, del suo padre, o almeno nella sua testa pensa che sia morto, e separarsi anche da Mike l'avrà dato un colpo di grazia che solo lei sa cosa vuol dire, forse. Che si tratti quindi di emozioni negative o adrenalina, le emozioni hanno un effetto incredibilmente forte nei poteri di Undici, questo l'abbiamo capito. Che sia quindi proprio questa la via con la quale la nostra protagonista di Stranger Things possa riacquisire i suoi poteri e diventare la supereroina che noi tutti conosciamo? Non abbiamo ancora certezze sulla trama di Stranger Things 4, o almeno non ancora, appena arriveranno poi ve le dirò, ma dal mio punto di vista personale i poteri di Undici sono una certezza per la serie tv, e la perdita di questi renderebbe sì, Undici una ragazza normale, come forse lei vorrebbe, come forse è il suo sogno essere una ragazza normale come tutti gli altri, ma secondo me andrebbe a far perdere quella qualità che rende unico il personaggio di Undici e centrale nella serie tv, nello show. È quindi probabile e sarebbe sicuramente romantico che Undici riacquisterà i suoi poteri grazie a dei valori importanti e fondamentali quali l'amore e l'amicizia, valori che come detto fungono da catalizzatore per i poteri di Undici. Sarebbe davvero bello quindi che Undici potrà riavere indietro i suoi poteri, che come sappiamo non ha più, grazie a Mike di base e anche forse ad Hopper. Sarebbe sicuramente un'ipotesi che se si realizzasse tantissimi spettatori amerebbero, un'ipotesi che andrebbe a scatenare davvero delle scene estremamente romantiche e a far anche crescere l'amore tra questi due personaggi, ma dal mio punto di vista è un'ipotesi che difficilmente si realizzerà. Infatti, e questa è l'ipotesi che vi dicevo prima, è che il dottor Brenner potrà essere lui a ridare i poteri a Undici e ci sono anche delle prove che dimostrano questo, ma di questo punto, di questa teoria, ne parleremo in uno dei prossimi video. Quindi, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate like al video e seguitemi su Instagram, il mio nome è Parisi-Nicolas, per rimanere sempre aggiornati. Voi, cosa ne pensate? La teoria è realizzabile? È più importante che Undici abbia i poteri per essere il personaggio forte della serie TV o che Undici magari non li abbia più dopo tre stagioni che ha avuto i poteri e che diventi una ragazza normale come dal suo sogno. Anche in questo caso, scrivetemelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!